Musica Bene, qui è la seconda giornata di questa maratona che compleanno di senza barcode, che coppia 4 anni. C'è un secondo convegno che abbiamo seguito oggi ed era un convegno sulla polizia locale, la domanda, diciamo, il titolo domanda era polizia locale nel dispositivo antiterrorismo e per le emergenze di protezione civile. Ecco, nell'ambito appunto, nel parterre delle persone che sono intervenute, salutiamo qui con noi Sabrina Magris. Sabrina Magris è la presidente dell'Ecole Università Internazionale, che ci spiegherà un pochino che cos'è e poi magari entriamo un po' più nello specifico, riprendendo qualche argomento che le ha trattato molto interessante. Grazie Economista Internazionale è un istituto di formazione e ricerca nell'ambito della pace e della sicurezza, quindi due grandi tematiche che in qualche modo si abbracciano anche nel contesto appunto di polizia locale, visto che si è parlato di terrorismo e ancora meglio di antiterrorismo e di attività di protezione civile, che in qualche modo poi sono una conseguente all'altra, ma l'augurata ipotesi che ci sia un evento terroristico, ma che in qualche modo anche alla luce dell'emergenza e degli eventi naturali, l'ultimo triste terremoto, quindi l'ultimo triste evento, in qualche modo sono state anche un banco di prova per vedere, capire se siamo pronti o appunto incrociando le dita potessimo o meno rispondere anche alla luce del giubileo, che insomma è stato inaugurato, dei grandi eventi che fortunatamente l'Italia si è trovata a gestire nei mesi passati e ci auguriamo tutti si troverà anche nei mesi successivi. Quindi quel raccordo, quell'elemento, quella colla positiva che unisce il tessuto sociale, il cittadino singolo, nelle sue attività quotidiane o nei grandi eventi in quale si trova coinvolto, all'attività invece di polizia, quindi quel raccordo che da un lato ha l'imperio della divisa, della capacità di far rispettare la legge, far rispettare le normative, ma che dall'altra parte è un colui o un colei che raccoglie l'informazione e le necessità e in qualche modo trova e prova a darne risposta. Quindi quell'elemento che deve rimanere in qualche modo un po' meno polizia, un po' di più essere elemento di raccordo della cittadinanza. Quindi come si è anche discusso, non modificare ma solo potenziare, migliorare quelle che sono le qualifiche, le capacità che la polizia locale italiana può elargire nel territorio. Abbiamo visto peraltro nel dibattito in cui erano presenti molti esponenti, insomma rappresentanti delle polizie locali, che si è un po' lamentata una sorta di trascuratezza dell'istituzione e anche dello Stato in generale, un po' nei confronti di queste polizie locali, perché in qualche modo il coordinamento e il contatto, la cooperazione tra le varie polizie è una cosa che si fa un po' ognuno in modo più o meno casareccio, insomma tramite conoscenze, tramite telefonata dalla persona che si conosce. Ecco, a livello internazionale voi avrete chiaramente un osservatorio, come stanno messi negli altri paesi? C'è maggiore coordinamento anche a livello appunto locale rispetto ai livelli nazionali e che poi sono il gradino intermedio verso l'internazionale? Infatti appunto la parola antiterrorismo in qualche modo sembra un'assurdità se la colleghiamo alla polizia locale, invece gli eventi degli ultimi mesi, anche molto rapidi purtroppo nelle capitali europee e nelle città, non solo europee ma anche statunitensi, ci hanno imposto una maggiore attenzione. Ecco, a livello europeo l'unica differenza principale è la preparazione pre-inserimento in organico, quindi una volta passato il famoso concorso, la famosa selezione, c'è un'infarinatura almeno di base, come si discuteva la polizia locale ha la necessità di agire in settori completamente diversi, sia dal punto di vista proprio pratico quotidiano, sia della competenza normativa, giuridica e di tutti gli strumenti che servono poi per applicare e rendere pratico il lavoro. Ecco che quindi forse quello che un po' a noi manca è la prima fase, quell'infarinatura generale e il confronto anche a livello di coordinamento non siamo secondi da questo punto di vista, nel senso che anche le polizie degli altri paesi europei hanno le loro problematiche di coordinamento o comunque di collegamento con le altre forze nazionali, federali o come vogliamo chiamarle. La differenza la fa appunto in uno stato come l'Italia dove ha all'interno tutta una serie di siti importanti a livello internazionale, vuoi Roma, vuoi Venezia, vuoi Napoli, vuoi Firenze, insomma tutte quelle capitali ambite che sono mete della vita, forse noi non ce ne rendiamo neanche più conto invece di quanto cittadini stranieri ambiscano per un lungo tempo venire da noi, quindi anche questo raccordo poi di internazionalità che non è solo legato all'evento purtroppo negativo ma che anche nell'attività quotidiana dovrebbe renderci più internazionali ancora, quindi non la dobbiamo vedere solo nel caso di attacco, evento, emergenza, ma nell'attività di polizia quotidiana anche di qualche modo collegamento con gli stati esteri nella normalità. Bene, in chiusura volevo chiedere se appunto queste collo internazionali, gli studi e gli risultati di queste ricerche sono raggiungibili su internet in qualche modo, se c'è un sito c'è un modo per avere informazione appunto del lavoro che fate? Le varie attività di ricerca che in qualche modo poi devono essere fondamentalmente divulgate sono raggruppabili nel nostro sito di editoria quindi www.ewedizioni.net che in qualche modo rende con anche pubblicazioni gratuite e scaricabili la possibilità di raggiungere anche dalle persone più lontane alcuni studi, alcune informazioni che insomma hanno di base l'auspicio di essere appunto poi spendibili e pratico-operative nell'attività quotidiana. www.ewedizioni.net